Ora che mi viene in mente un altro bel pasticcio, una parola d'ordine un po' più attuale del titolo di un film di Staglio e Olio, no? Io adoro Staglio e Olio. Olio è un tipo sveglio. Ma hai ragione, anch'io li adoro. La cosa perfetta per festeggiare il vostro ritorno, i miei famosi nachos svedesi. Avanzi, servitevi. Su, coraggio, sono senza glutine. Non ora, grazie. Non volete? Nemmeno uno. Quando abbiamo detto che ci piacevano, in realtà noi volevamo soltanto... Mostrarvi i gentili? Beh, avevi lavorato tanto per farli e dar a Natale. Scusa, me lo dite solo adesso. Potevate farlo prima. Un momento. Nachos svedesi? Sì. Con le polpette? Sì. A Natale me li sono persi, ma questa volta posso assaggiarne uno? Ci serva pure. Sono buoni. Grazie, finalmente qualcuno che ha buon gusto. Ma, che c'è? Niente? Ha ragione, in effetti sono veramente buoni. Buon appetito.